La difficoltà di imparare una nuova lingua, il confronto con persone di culture diverse, lo sforzo di adattamento possono condurre a forme di stress, appunto di avere effetti significativi sul nostro corpo. Sono questi alcuni dei temi che lo psichiatra tepanese Nicolo Renda ha affrontato a Cartum nel corso di uno degli incontri della diciottesima settimana della lingua italiana nel mondo organizzati dal Ministero degli Esteri sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Il professore Renda, ospite dell'ambasciatore italiano in Sudan, Fabrizio Lobazzo, è intervenuto presso l'Alfaisal Cultural Center davanti alla platea di studenti dell'Università di Cartum, dell'Università di Aulniland e della UMST, University of Medical Science and Technology. Specializzato nei disturbi da stress correlati e d'ansia, Renda ha spiegato come lo sforzo adattativo, linguistico e culturale può portare allo stress e che la capacità di parlare due o più lingue sia stata a lungo considerata in passato un talento speciale, posseduto solo da una cerchia di persone ben istruite. La verità, a concluso Renda, è che le persone sono di due tipi, chi considera l'apprendimento di una nuova lingua un fatto naturale e anche contingente e chi invece frappone una barriera fra sé e la capacità di apprendere una nuova lingua. Nel corso dell'incontro, ultimo di quattro, organizzati dal Ministero degli Esteri presso il Faisal Cultural Center, insieme al professore Renda, il dottor Naila Kalak dell'Università di Venezia e la professoressa IGA Lanza di Università dell'Africa.